Ecco perché si parla. Punto F attraverso Francesca F a cura di VB guida. Dunque, immaginate tutte le emanazioni delle coscienze in un blocco. Ecco perché si parla di razze che, un blocco alla volta, sperimentano gradi di divenire diverso a seconda dell'humus creato, percepito per il tragitto esperienziale. L'humus del pianeta nel quale vi trovate è partito proprio dalla conoscenza del bene e del male e quindi dalla non conoscenza alla conoscenza. E l'humus è perfetto perché è una creazione e percezione di un territorio evolutivo nuovo che ha permesso all'io di manifestarsi in tutta la sua grandezza, in tutta la sua non conoscenza e piano piano ad affinarsi sempre più nel processo incarnativo-reincarnativo che esperisce esautorando l'io. Questo divenire conoscitivo vi porta dalla non conoscenza alla conoscenza che voi brutalmente definite male bene. Male bene bene male non esistono. Esiste il tutto perché il tutto è la manifestazione dell'essere e l'essere contiene qualunque opposto, qualunque possibilità, qualunque forma esperienziale contenuta nell'essere perché l'essere è il tutto. e l'essere è il tutto.